Siamo con Francesco Abate, lo vedete imprigionato in un oblo, come sono imprigionato anche io. Però abbiamo questa bellissima grafica del festival che ci ospita dall'altra parte del mare, il festival curato dalla libreria Sirano di Alghero, che ringraziamo. Grazie a questa prima videoconferenza, speriamo vada tutto bene, videopresentazione. Presentiamo oggi il nuovo libro di Francesco Abate, che si intitola I delitti della Salina, edito da Inaudi. Ricordiamo per gli amici che si stanno collegando con noi in diretta Facebook, che per chi avesse ordinato il libro della libreria Alghero, Sirano, ci sarà in omaggio anche un bel cartoncino con tanto di cera lacca che appunto verrà regalato in omaggio con tanto di dedica personalizzata, per cui chi ha ordinato il libro potrà in qualche modo ricevere anche questo piccolo omaggio. Ma c'è la lacca, no? Perché il romanzo, l'argomento del romanzo, il tema del romanzo è appunto un po' ovviamente ambientato agli inizi del Novecento, ma di questo ne parleremo meglio con Francesco, che ringraziamo di essere qui. Ciao. Ma ci sono, mi vedono, in tutto il mio splendore. Vedono anche la bella copertina di Riccardo Falcinelli, abbiamo il libro questo, ve lo faccio vedere anch'io. E quindi insomma partiamo un po' a parlare di questo libro, I delitti della Salina, una protagonista femminile, Clara, Meilin, Simon, Simon è un cognome che noi ad Alghero conosciamo bene, qualcuno l'ha pronunciato Simon, no? Ma sgombriamo subito il campo dagli equivoci, Simon, Simon, per la sua origine veneta. Vorrei chiedere un po' a Francesco come nasce l'idea di questo libro, come nasce soprattutto questa protagonista così intrigante, insomma originale. Intanto grazie Ignazio e grazie soprattutto a tutti i nostri ospiti che si sono collegati con noi questa sera. In realtà la presentazione si sarebbe dovuta svolgere esattamente sabato scorso, ci saremmo dovuti vedere, incontrare e poi quelle firme le avrei messe come al solito dimenticandomi i nomi anche delle persone più care perché è una mia caratteristica, però sarebbe stato senza dubbio un appuntamento, quasi un rituale fra me e la città di Alghero che oramai si ripete da tantissimi anni, però questi sono i tempi e quindi comunque un legame lo dobbiamo mantenere. Anche questa è una maniera per mantenere questo legame fra me e voi, insomma fra noi. Alle 22 scatterà anche il coprifuoco, quindi sono veramente dei tempi cupi rispetto ai quali magari un libro, una buona storia, possono essere una buona consolazione. Allora rispondendo Ignazio alla tua prima domanda, devo dirvi e devo dirti che questa è una di quelle storie che in realtà mi covavano nell'anima, nel cuore, nella mente da tanto tempo, perché come tu sai che mi hai presentato ho diversi miei libri, io è vero che sono un cazzone per indole, è vero che sono un cazzaro nell'anima, è vero che sono un cialtrone in tutte le mie espressioni, però ho anche delle mie passioni forti, fra queste la storia, la grande storia, ma anche le piccole storie e quindi anche le storie che abbiamo più vicino, le storie di famiglia. Dovete sapere che io sono stato cresciuto con le storie, cioè ero un bambino che non riusciva ad andare a letto a riposare se prima o mia nonna o una delle mie zie non mi raccontava una storia. Ero, come dire, proprio affamato di storie. Ecco perché poi, quando sono cresciuto, sono diventato un lettore, un grande lettore. Io dico sempre questo, magari un giorno non sarò più scrittore, ma lettore lo sarò per tutta la vita. Allora, per farla breve, da cosa attingevano le storie mia nonna o le mie zie e a volte anche mia madre? Mia madre, devo dire, molto più ultimamente è diventata la memoria storica della famiglia. Raccontavano le storie di famiglia, perché io credo, Ignazio, che ognuno di noi abbia un grande bagaglio di storie familiari. Tutto sta a farsene raccontare, tutto sta ad ascoltarle e appuntarle. Allora, sin da bambino, io ricordo le storie che mi raccontava mia nonna, che aveva una storia molto particolare, perché era sarda, cagliaritana, però non lo era suo padre, mentre lo era sua madre. Suo padre, Rosolino, Rosolino Guicciardi, anzi, in realtà, lui si chiamava Felice, Felicino. Felicino. Però quando arriva a Cagliari, io dico, ma che fai uno così, lo chiami Felicino? No, abbreviamogli il nome, lo chiamano Rosolino, cioè peggiorarono la situazione o forse la migliorarono perché si, come dire, distingueva. E non era sardo, bensì era valtellinese, o meglio, di Tirano, da non confondere con Tirana, la città albanese, ma Tirano, in Valtellina, a neanche tre chilometri dal confine svizzero, esattamente col cantone dei Grigioni. Che cosa accade a un certo punto a metà dell'Ottocento, ma anche, devo dirvi, alla fine del Settecento? Non so per quale accordo economico i Stavoglia dicono agli svizzeri vi diamo le concessioni per venire in Sardegna e aprire le torrefazioni, i grandi caffè e le ofellerie. Gli svizzeri, che ho la fortuna di frequentare perché molto spesso sia la radio che la televisione svizzera, nonché le organizzazioni, le librerie, mi portano nel canton Ticino a raccontare i miei libri, mi hanno spiegato che quelli erano anni in cui noi non dobbiamo immaginare la Svizzera di oggi, ma dobbiamo immaginare una Svizzera in cui nelle valli c'era tanta povertà, ma tanta voglia di imprenditoria, di avventura. Allora, che cosa accade? Che questi ragazzi, perché questi erano, arrivano in Sardegna. Molti vanno a Sassari, moltissimi vanno a Cagliari. Alcuni restano, alcuni no, fra cui appunto mio bisnonno Rosolino. E mia nonna mi racconta quindi di questa migrazione, numericamente magari non molto importante, ma culturalmente per la città di Cagliari sì. Se voi pensate, fate un attimo memoria, pensate al caffè svizzero, Largo Carlo Felice, Tramer, invece a pochi passi dal bastione, ma non era soltanto quello l'espressione della presenza svizzera a Cagliari, e quindi inizia a montare questa storia. Poi arrivano altre storie, e sono le storie della città, storie molto importanti. Guardate, durante il tempo libero al giornale, quando magari appunto è un'elezione americana, o domenica in cui ci saranno i ballottaggi, bisogna attendere i dati, i corrispondenti ancora non li hanno tutti, oppure sei sul pezzo su un omicidio, quindi il corrispondente deve ancora arrivare sul posto, mancano le fotografie, hai tempo per fartela breve. E in questo tempo io ho sempre amato sfogliare le antiche copie dell'Unione Sarda, che quest'anno, lo scorso anno, ha compiuto 130 anni, quindi un patrimonio pazzesco di storie. E gli anni che vado a raccontare sono degli anni molto particolari, perché sono caratterizzati da una parte, dalla Belle Epoque, che anche a Cagliari ha una sua rilevanza e una sua importanza, magari ne parleremo dopo, però sono anche gli anni, l'anno precedente, al 1904, Motti di Buggerro, quattro minatori che vengono ammazzati dall'esercito, 1906, la grande rivolta di Cagliari, che si chiuderà con ugualmente due morti, di cui uno era un ragazzino di 15 anni. Allora, tutte queste storie messe insieme, fanno sì che abbia preso la decisione di iniziare a voler raccontare un'epica, un'epopea che partisse dall'inizio del Novecento e andasse il più a lungo possibile. Questo dipende solo da voi lettori. Senti, forse, non l'abbiamo detto, il romanzo giallo è ambientato a Cagliari, che è un po' anche uno dei protagonisti della storia. Qualcuno dice una Cagliari che sembra Parigi, in realtà forse è più una città mediterranea, una città mediterranea di inizio Novecento, in cui appunto si affacciano anche in Sardegna, nella remota provincia dell'Impero, tutte quelle lotte che insomma concludono l'Ottocento e aprono appunto il Novecento. E quindi, insomma, questa nostra Clara Simon è una giornalista che in qualche modo all'inizio del romanzo troviamo a scontare un po' una sorta di pena, di punizione per la sua indole forse un po' troppo spregiudicata per certi aspetti, un indole, diciamo, difficilmente addomesticabile, ed è una giornalista che lavora per l'Unione. Il caso si apre appunto con il ritrovamento del corpo di un bambino, spero di pronunciarlo bene, un picciocco dei grobi, giusto? Tu l'hai detto alla catalana, però è picciocco dei grobi. picciocco dei grobi. E appunto quindi Clara si ritroverà poi a indagare su queste morti, su questa morte e su questi casi in generale. Ti chiedo, insomma, se in questa Clara sono confluite un po' anche tue esperienze personali, ma soprattutto anche magari figure femminili che ti hanno magari ispirato in qualche modo. Ma intanto va detto una cosa, che Cagliari non era certo, ma neanche a dirlo, una grande città internazionale, però era una città cosmopolita, nel senso che c'erano presenze di tante comunità. Vi ho detto la comunità svizzera, ma fortissima per ovvie ragioni, era la comunità piemontese, ancora più forte quella di retaggio genovese o pisana, ancora fortissima quella napoletana, quella siciliana, quella tunisina. Se si vanno poi a vedere, insomma, sempre le cronome anche di quell'anno, basta sfogliare quelle pagine dell'Unione Sarda e vedere i cognomi dei protagonisti di quegli anni. E sono dei cognomi che ti fanno capire che essendo Cagliari comunque porto della Sardegna, vi confluivano tantissime comunità per varie ragioni, di commercio, di affari, di studi, o anche perché venivano mandati in Sardegna, non dimentichiamolo mai, per punizione. Infine, va detto che comunque aveva una vita culturale attivissima. Stanotte, quando termineremo la nostra diretta, pubblicherò su Instagram una bellissima immagine che mi ha fornito la società umanitaria, la Cineteca Sarda, di un anfiteatro romano in attesa di un'opera. Voi dovete vedere quanto è pieno quell'anfiteatro e quanto è occupato in ogni ordine di posto a scalare. Ovviamente i primi posti in platea c'è la nobiltà e la borghesia e poi via via salendo però abbiamo tutte le classi sociali. tutti a loro modo eleganti ma presenti all'opera perché comunque Cagliari è una città che ha una grande tradizione operistica che aveva cinque teatri molto attivi quindi comunque aveva una sua vita sociale importante. Allora io volevo raccontare quest'epoca attraverso le donne perché ugualmente ho trovato molte fotografie dell'epoca e quelle donne spiccano rispetto alle altre donne che potevamo incontrare ovviamente nei paesi della Sardegna innanzitutto a partire dal loro abbigliamento che era un abbigliamento diciamo europeo, italiano a volte come dire influenzato invece da quello sardo però a volte guardando quelle foto mi dicevano ma questa foto dove è scattata? È scattata a Cagliari è scattata a Vienna è scattata a Roma è scattata a Trieste se andate sul mio Instagram vedete tutte le foto che ho trovato ed è impressionante come ci fosse già una globalizzazione degli abbigliamenti ad esempio presenti a Cagliari e allora nello specifico mi ha colpito un'altra cosa da qui nasce il personaggio di Clara Simon o Clara Simon a me piace più dirlo Clara Simon non so perché però mi piace dirlo così perché a un certo punto a proposito di cronache internazionali su una prima pagina dell'Unione Sarda del 1905 proprio che viene riportata nel primo capitolo del romanzo Clara legge una cronaca guardate quella non è una cronaca inventata da me ma grazie all'Unione Sarda ho potuto attingere veramente a quell'articolo cosa racconta quest'articolo? un efferatissimo delitto che avviene a Parigi quindi l'Unione Sarda parla ai suoi elettori non soltanto dei fatti locali ma gli apre una finestra anche sui fatti internazionali quel delitto particolarmente famoso all'epoca riguarda un milionario francese che viene malamente assassinato da uno dei suoi inservienti come viene arrestato uno di questi suoi inservienti? perché va in un caffè parigino si vanta con una chellerina ovvero una cameriera ma questo è furba lo fa ubriacare finché non fa arrivare la gendarmeria e lo fa arrestare e a un certo punto il giornalista o forse la giornalista o meglio era il giornalista ma io provo a immaginare che sia una giornalista invece scrive che quel delitto aveva un'efferatezza pari soltanto a un racconto di Edgar Allan Poe quindi nel 1905 l'Unione Sarda dice sui lettori eh chiaramente eh di Edgar Allan Poe quindi gli dà un riferimento che il giornalista sa che quei lettori possono cogliere quindi questo ti dà la dimensione di quali erano i lettori eh dell'Unione Sarda ovviamente non erano i lettori di oggi o i lettori dieci o venti anni fa perché molti erano ancora analfabeti però è un pubblico attento un pubblico che legge Edgar Allan Poe allora io mi sono detto ma vuoi vedere che questa siccome all'epoca le firme non si mettevano sarebbe bellissimo se questa fosse opera di una giornalista di una delle tante giornaliste donne che io ho avuto o come colleghe però sia una prepista una prima donna che ha dovuto fare i conti con un'emancipazione difficile ma non impossibile 1904 dall'Università di Cagliari esce la prima laureata donna questo cosa significa che se si è laureata in medicina nel 1904 c'era già dalla fine del secolo a studiare questa ragazza Paola Sanna e sicuramente c'erano altre sue colleghe e altre ne arriveranno e guardando le storie di famiglia proprio le mie ave tutte si laurearono chi si laureerò in chimica chi divenne farmacista chi professoressa quindi di lettere quindi erano delle donne perfettamente al passo e forse avanti coi tempi allora volevo raccontare una di queste donne qui ad esempio come era la sorella della mia bisnonna Emma Resu che io non ho conosciuto mentre il marito come vi ho detto il mio bisnonna Rosolino sì ho avuto la fortuna di conoscerlo di poter giocare con lui di poterci parlare mi ha fatto anche dei regali bellissimi e ho delle foto con lui ebbene la sorella quindi sua cognata era molto famosa in famiglia Elvira Elvira Resu perché era famosa in famiglia perché era anarchica e in quanto anarchica che cosa succedeva guardate siamo all'inizio del secolo ogni volta che arrivava un altro funzionario del regno a Cagliari o addirittura un reale sapete cosa facevano andavano in Corso Vittorio Emanuele dove vivevano bussavano i carabinieri alla sua porta e gli dicevano Elvira prendi borsetta o ombrellino che ti portiamo a buon cammino cioè il carcere di Cagliari cioè la carceravano preventivamente nonostante fosse una donna non per bene non avrebbe mai messo una bomba in vita sua però lei pur mantenendo fede al proprio ideale prendeva il suo ombrellino il suo cappellino e si faceva i giorni di carcere che si doveva fare nonostante non avesse fatto nulla ecco queste sono le donne che hanno ispirato Clara Simone tra l'altro sì diciamo carcerazione preventiva non è un periodo in cui i diritti civili e dei lavoratori sono particolarmente rispettati diciamo questo tra l'altro è anche uno uno dei temi dei temi del romanzo tu se non sbaglio l'hai definita anche un po' una sorta di saga popolare di romanzo popolare Clara Simone è diciamo una figlia della della dell'alta Cagliari no? Lei è figlia di un'importante famiglia aristocratica attende il ritorno del suo padre insomma Francesco Paolo Simone che è una sorta di non sappiamo se è vivo o morto è una sorta di Ulisse che cerca di in qualche modo non sappiamo se sia tornato o no però lo sai che hai detto una cosa che è la chiave che è una chiave che per la prima volta viene notata poi magari ne parliamo del fatto che Francesco Paolo Simone in fondo è Ulisse non è che sembra Ulisse è Ulisse e ci proietta rispetto ancora a una globalizzazione di quegli anni nel senso che scusa se ti ho interrotto ma ci teneva a dirlo perché Francesco Paolo Simone capitano di Marina dove è finito chi ha letto il libro lo sa cioè per ora sa dove è finito ma in realtà non si sa dove è finito nel senso che chi ha letto il libro sa e chi non l'ha letto lo possiamo dire perché si sa nei primi capitoli che Francesco Paolo Simone è disperso in guerra e uno dice ma come siamo nel 1905 e che guerra dobbiamo tenere conto che in quegli anni e negli anni precedenti l'Italia aveva velleità coloniali quindi siamo reduci da una prima primo tentativo di impero in Eritrea ed Etiopia che va malissimo e poi comunque facevamo parte di un sistema coloniale per cui in Cina parte la rivolta dei boxer e l'Italia manda 2400 tra carabinieri bersaglieri fanteria montata marinai per difesa diciamo delle legazioni cioè la difesa degli interessi europei occidentali in Cina e la Sardegna manda i suoi soldati perché quell'esercito è l'ex armata sarda e alcuni di quei marinai alcuni di quei fanti hanno già preso parte a precedenti a precedenti guerre Francesco Paolo Simon va va in Cina ma non torna chi è? è Ulisse l'hai detto tu e sono contento che abbia fatto questa citazione cosa mi stavi dicendo che ho portato il discorso dall'altra parte? non mi ricordo però comunque dell'epopea popolare stavi facendo sì ecco della questione sociale diciamo che nel romanzo anche appunto una sorta di protagonista collettivo sono queste sigaraie no? operaie della manifattura capitanate dalla sarrana che lo diciamo per gli algheresi tu sai cosa significa sarra in algherese? no è un pesce un pesce tra l'altro non molto famoso per la sua intelligenza cioè facile da pescare poi invece sarra esatto sarrana invece dillo tu perché cosa è sarrana però poi diventa nella narrazione uno lo contrae lo fa diventare sarrana perché è una donna insomma non particolarmente aggraziata con un busto corto gambe e braccia particolarmente lunghe ma di carattere ed è una delle capopopolo delle sigaraie guardate proprio questi giorni anzi stamattina stavo leggendo altre cronache dell'unione sarda e altre cronache del tempo recuperate attraverso giornaletti che uscivano durante l'epoca tra un po' arriva il 1906 e fra le capopopolo che guideranno i moti del carovita perché a Cagliano in tutta la Sardegna la gente stava morendo di fame c'erano condizioni disastrose una si chiama proprio come sarrana cioè Boi non so se si chiamasse Maria Boi e l'altra Floris erano due sigaraie allora a me guardate mi è impressionato molto questo che a guidare quei moti quindi abbiamo delle donne laureate delle donne che si affermano nei messieri nelle professioni ma abbiamo anche delle donne capopopolo perché perché Cagliari non va dimenticato aveva una delle più importanti manifatture tabacche del regno che poi a quell'epoca producevano trinciati sigari sigaretti ma poi diventerà la fabbrica delle MS e Ignazio erano 450 operarie nel 1902 ho una guida di Cagliari che dice che erano 450 anzi la guida di Cagliari figli di cane e sessisti dice esattamente ci sono 470 addetti di cui 20 uomini le donne quelle 450 manco dice che sono questa guida di Cagliari di che anno è del 2 del 1902 però dobbiamo tener conto che appunto 450 operarie in una città che all'epoca adesso non mi ricordo esattamente il numero esatto di abitanti significava la spina dorsale economica ma erano delle donne fantastiche delle donne fortissime e anche divertentissime perché se si leggono i giornaletti dell'epoca queste erano donne che ti ammazzavano soltanto verbalmente avevano una capacità di oratoria e mista anche però allo sberlefo popolare erano fantastiche e quindi insomma ci sono domande Ignazio? no allora volevo dire appunto che a chi ci sta ascoltando volevo dire che noi grazie ai nostri potenti mezzi siamo in grado di leggervi di leggere i commenti quindi se avete domande domande per Francesco Abate potete anche farle su Facebook e io gliele leggerò in diretta ad esempio lo salutiamo anche Gianluigi Tidia ti dice che lui l'ha letto e purtroppo fa uno spoiler dice che l'assassino è stato il giardiniere non so se vuoi rispondere a questa provocazione allora Gianluigi Tidia noto noto insopportabile noto insopportabile noto insopportabile solo di nome dai solo di nome ah sì sì assolutamente invece è amabile come persona è amabile e no non è l'assassino non è non è il giardino perché abbiamo dimenticato di dire una cosa che questo è un giallo tra le altre cose questo è un giallo nel senso che Clara Simone decide di rimettere le mani in pasta perché una delle sigaraglie appunto Sarana va da lei e dice guarda che non si trova uno dei bambini dei cesti uno dei facchini del mercato un picciocco dei grovi ma altri sono spariti non solo uno probabilmente è quel piccolo cadavere che viene ritrovato nella salina quindi Clara inizia l'indagine non è il giardiniere però è vero che c'è una scena importante e chiave che si svolge in un luogo dove i giardinieri fanno e hanno fatto bene il loro lavoro dove io ho fatto una delle uniche due presentazioni dal vivo che ho potuto fare per questo libro c'è un'eglesia al San Teatro Electra e poi il giorno dopo una doppia presentazione all'orto botanico di Cagliari perché l'orto botanico è uno dei luoghi chiave per poi da cui si dipana il giallo si dice così dipana? si dipana si dipana tu sei docente di italiano vero? si a quanto pare a quanto pare dove ce li hai gli alunni a casa in adesso si adesso si adesso siamo tutti tutti a casa più o meno più o meno diciamo quindi l'assassino non è assolutamente il giardiniere l'assassino io mi domando veramente chi l'ha già letto senza fare spoiler se si immaginava quale fosse l'evoluzione gialla perché poi forse non dobbiamo parlare non dico niente non dico niente no non diciamolo non diciamolo diciamo la versia diciamo le piste sono ovviamente molte però insomma poi alla fine c'è un finale che però non è un finale aperto per questo ti vorrei dire ti volevo chiedere anche insomma se hai già previsto hai già scritto il secondo tu praticamente hai già scritto la seconda la seconda parte allora il finale di questo caso c'è cioè viene dato un senso compiuto alla storia quindi il lettore non viene lasciato appeso oddio cosa è successo non si fa no no non si fa non si fa a meno che non sei non lo so chi sei però io non me lo posso permettere vi lasciare tronca una storia aspettare che i lettori ma non sarebbe neanche giusto il giallo si conclude ha una sua conclusione c'è un'evoluzione dei personaggi però ci sono delle storie che restano aperte la storia numero uno è ciò che tormenta più Clara Clara è tormentata da due cose la prima è rimettere le cose in ordine chiudere i cassetti non avere dei disordini non avere dei suoi disordini mentali perché è una cosa che secondo me sulla quale chiedo a chi ancora non l'ha letto di fare attenzione Clara è una donna forte però paga in solitudine questo suo essere forte quindi è una donna forte pubblicamente ma che ha le sue grandi debolezze ha dei momenti di grande difficoltà e quindi ha bisogno di mettere ordine nella sua vita e l'ordine significa anche verità e giustizia l'altro ordine è quello che ha un padre che è partito lei non ha più la mamma perché comunque è una donna che ha due tipi di sangue uno popolare e l'altro se vogliamo non nobile perché lei non è nobile però alto borghese la sua famiglia quella da parte del padre di borghesia mercantile di borghesia commerciale che è quella che ha sempre caratterizzato poi la città di Cagliari dall'altra è figlia di una cinese del porto e qualcuno dirà eh vabbè che fesseria che cacchiata i cinesi a Cagliari del 1905 ecco probabilmente non c'erano nel 1905 o forse c'erano di sicuro c'erano le prime botteghe in quella che è via Baile quella che oggi è piazza Savoia c'erano già le botteghe dei cinesi nel 1918 perché commerciavano soprattutto i bottoni allora Clara ha delle questioni da risolvere innanzitutto in che mondo da che parte del mondo decide di stare e più o meno questo lo capiamo già in questo libro dall'altra deve capire qual è veramente la sua indole e ancora ha perso la mamma durante il parto ma non vuole perdere anche il padre quindi ciò che resta aperto è non è uno spoiler perché si capisce subito nei primi capitoli che Francesco Paolo Simon manca all'appello e Francesco Paolo Simon è il grande crucio di Clara che non ha famiglia ha un nonno importante ma non ha una famiglia ha due contendenti abbiamo fatto anche un toto contendenti l'altro giorno su Instagram io ho votato perché hai votato io ho votato per Fastberger ma perché non perché penso che possa essere lui ma perché faccio il tifo per lui ok tutti hanno tifato per Rodolfo Sala la gran parte il 70% ha votato per Rodolfo Saporito quindi anche questo è un altro aspetto che resta aperto con tutti questi aspetti aperti non si può che non pensare a un secondo romanzo devo dirvi che dal primo novembre abbiamo iniziato a lavorare al secondo romanzo però tutto dipende dai lettori sono i lettori che decidono com'è che decide il lettore andando in libreria comprandosi il libro è quello il segnale che ti dà è quello il segnale che ti dice ok voglio sentire la nuova storia di Clara Simon io ce l'ho pronta ce l'ho pronta abbiamo anche in mente il percorso della vita di Clara Simon cioè io dico sempre ogni presentazione io so l'ora il mese l'anno in cui Clara Simon muore non muore giovane muore anziana ecco però dipende solo dai lettori il fatto che io possa narrare questa grande epopea popolare che quindi parte nel 1905 e toccherà di sicuro le due grandi le due grandi guerre e lei lì a fare la giornalista sempre indomita sempre sicura delle sue idee e questo lo scoprirete allora ci sono tanti spunti sicuramente abbiamo detto vabbè abbiamo citato i due alfieri diciamo della protagonista che sono Fassberger e Rodolfo Saporito ti chiedo già se è parente del tuo protagonista ma di vecchia data sì insomma sì lo è quello che mi hanno chiesto è se allora Rodolfo Saporito è un personaggio principale di due miei romanzi il cattivo cronista e così si dice poi ha una comparsata nel romanzo Mi fido di te e devo dirti che sono diversi i lettori che hanno amato questo personaggio e mi hanno chiesto più volte quando è che torna Rodolfo Saporito ma io non avevo una storia pronta per Rodolfo Saporito o meglio quando proposi a Rosella Postorino mia editor e scrittrice che i lettori di Alghero hanno incontrato una bellissima presentazione che facemmo alla libreria Sirano proposi una storia di Rodolfo Saporito e Clara Simon lei disse senza dubbio Clara Simon allora però siccome ho una mente malata ho detto però perché non andare alla radice di questo giornalista così completamente diverso da Clara Simon e allora mi sono detto del resto lui ha dichiarato sin dal cattivo cronista di arrivare da una famiglia di origini napoletane allora diamo queste origini quindi di sicuro posso dire questo che Rodolfo Saporito dei delitti della Salina è il bisnonno di Rodolfo Saporito del cattivo cronista di così si dice e mi fido di te la domanda che mi è stata posta ma Clara Simon è la bisnonna di Rodolfo Saporito di oggi o non lo è e qui taccio e qui non svelo questo non lo svelo io lo so ma non ve lo dico ok rimane lo scopriremo sicuramente leggendo i prossimi i prossimi episodi i prossimi capitoli della saga senti un'altra altre due cose diciamo di Cagliari un po' abbiamo già parlato Cagliari è definita uno strano inganno per certi aspetti perché diciamo che nel corso poi della storia abbiamo anche la possibilità di vedere un po' la Cagliari misteriosa segreta di cunicoli nascondigli che si aprono poi su giardini eccetera eccetera ma quello che ti volevo chiedere è appunto riguardo anche un'altra frase che mi sembra clara dice appunto a proposito di questa città del fatto che non cambi mai quindi volevo chiederti insomma quanto c'è cosa è rimasto della Cagliari del 1905 nella Cagliari del 2020 ma guarda questa ruffianamente come ho detto un altro tuo collega che mi ha intervistato sarebbe la domanda da porre a chi l'ha letto cioè chi l'ha letto quanto trova non tanto nei luoghi perché molti luoghi grazie a Dio sono restati quelli infatti adesso quando ci sarà permesso è previsto un tour fisico nei luoghi di Clara Simon dei delitti della Salina perché esistono tutti e sono riconoscibili ci si può andare non sono cambiati per fortuna e quindi lì la città in parte è restata la stessa però è anche cambiata siamo nel 1905 uno dei monumenti della città di Cagliari ovvero il municipio non esisteva ancora o ancora la spiaggia del Poetto in quanto spiaggia balneare turistica di villeggiatura nel 1905 non esisteva era una spiaggia che non era frequentata era una spiaggia selvaggia dove non c'era nessuna abitazione figurarsi gli stabilimenti balneari anzi quelli saranno gli anni in cui il sindaco Tone Baccaredda insieme a un gruppo di imprenditori cagliaritani farà una battaglia per aprire come a Mondello come a Palermo Mondello a Cagliari il Poetto quindi per certi aspetti era anche una città diversa il punto è capire invece la l'animo della città se è cambiato il punto è capire se i meccanismi che ne regolano il potere sono cambiati e questa è una domanda che io rivolgo ai lettori leggendo il mio romanzo secondo voi ci sono delle affinità ci sono delle differenze tutte restate uguali o qualcosa è cambiato se devo dare una risposta posso dire che alcune cose sono restate identiche altre per fortuna sono cambiate alcune cose sono migliorate altre sono peggiorate altre sono restate uguali però è un gioco che deve fare il lettore e magari anche oggi se qualcuno l'ha letto può anche dire eventualmente la sua ma da quanto siamo in onda da 40 minuti direi che ti faccio un'altra domanda magari e poi non so se anche perché voglio dire oltre i 45 minuti la pazienza di tutti soprattutto la tua soprattutto la tua no la mia io andrei avanti per ore perché la pizza mi arriva alle 9 e un quarto quindi non ho non ho fretta più che altro dovrei andare a ordinare ascolta va bene allora innanzitutto va bene ringraziandoti per la disponibilità ti faccio giusto quest'ultima domandina che mi era assorta un po' nella lettura del libro a un certo punto allora abbiamo detto che Clara è giornalista nell'Unione no quindi per l'Unione quindi insomma qua sfondiamo proprio un portone autobiografico a un certo punto il direttore Giorgio Pisano dice che il giornale è come un vascello che deve percorrere la propria rotta assecondando però i venti che ne gonfiano le vele ti dico se questa è proprio una una lezione secondo te che può essere di di giornalismo e se soprattutto vale anche per la letteratura ma no io sono uno che ancora sta imparando sia il mestiere del giornalista che quello dello scrittore quindi perché non si finisce mai mai anche perché i tempi cambiano e quindi cambia il modo in cui tu ti devi approcciare alla realtà cosa fa il giornalista approccia la realtà ma la realtà muta costantemente e tu devi essere pronto erano pronti che so anche Giorgio Pisano stesso che è un omaggio al mio maestro al grande inviato dell'Unione Sarda vice direttore dell'Unione Sarda uomo veramente con la schiena dritta a raccontare la pandemia attraverso questi strumenti forse no eravamo noi pronti a raccontare che so una guerra sotto dittatura insomma tutto cambia e quindi quella è una frase che il direttore Giorgio Pisano dice applicata a quell'epoca e probabilmente anche altre diverse epoche cioè il giornale un giornale libero non c'è un giornale sotto dittatura deve tener conto di tanti aspetti di tanti momenti il giornale non va mai dimenticato è un servizio pubblico ma come nel caso dell'Unione Sarda e di altri giornali su cosa si si su cosa poggia poggia sulle vendite quindi quel giornale tu lo devi vendere devi saperlo vendere a seconda del momento per quanto riguarda invece la scrittura no perché significa su questo invece sono più granitico nel senso che non è che scrivi la saga nordica perché in questo momento sta regalando successi oppure la saga familiare perché ti sta regalando successi oppure quella generazionale o di formazione perché ci sono tutta una serie di narrazioni che in questo momento vanno particolarmente bene io credo che tutti gli scrittori che fanno questo lavoro per per l'amore di farlo seguono la propria strada che è la strada della propria anima cioè faccio questo perché lo adoro perché lo amo perché voglio raccontare questa storia perché la sento mia e non c'è nessun'altra ragione se non questa non il mercato non io non io di sicuro e non tanti altri miei colleghi il fatto che abbia deciso di fare un romanzo storico non è perché adesso va di moda perché va di moda non lo so oppure se ho fatto l'autofiction perché andava di moda l'autofiction no era perché quello era un momento quando ho scritto chiedo scusa torpedale tra piantanti mia madre antecatastrofi era un momento in cui volevo raccontare queste storie e adesso voglio raccontare quest'altra saga quando smetterò quando non ne ho più voglia quando ho perso ebbè è così cioè nessuno mi obbliga voglio dire ogni giorno siamo più o meno obbligati ad andare a lavorare ognuno di noi più o meno ha scelto il lavoro che ama io volevo fare il giornalista e non l'avvocato come mio padre quindi già per me andare ogni giorno a lavoro è bello certo alcuni giorni sono decisamente più pesanti non ne voglia poi fare lo scrittore è bellissimo quindi allora qui proprio scelgo solo esclusivamente ciò che voglio fare io e diciamo che lo fa anche discretamente bene quindi lo ringraziamo insomma ringraziamo Francesco anche per questa chiosa finale che insomma fa sempre piacere sentire un bravo scrittore parlare di letteratura anche insomma con parole che vengono si vede proprio da dentro non so io direi che possiamo ci lasciamo con una promessa di vederci sicuramente qua qua dal Ghero perché c'è da dire che tu sei un grande scrittore ma soprattutto anche un animale da palcoscenico per cui è un peccato non poterti insomma ammirare dal vivo durante le presentazioni e vedi che sono più serio di fronte a questo video divento serio invece tu che sei abituato alle mie come dire quando si va fuori dai binari come si dice? deragamenti ai miei deragamenti oggi non ce ne sono stati perché non c'è un pubblico non sentiamo il flow non sentiamo il flow del pubblico e quindi non 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 è la parola algerese flow flow sì algerese però della muraglia specificatamente va bene grazie ancora però ricordiamo sempre che le librerie sono aperte per cui potete andare in libreria continuare ad acquistare ormai la la seconda di stampa del del libro rimane l'omaggio con appunto direttamente dal 1905 con c'è la lacca e dedica personalizzata vi ringraziamo per essere stati ad ascoltarci ringraziamo Francesco per la per la disponibilità grazie a voi grazie a voi grazie e direi che insomma ci salutiamo grazie ancora a tutti grazie a tutti grazie a tutti